Ciao ragazzi, siamo Emma e Marghe e bentornati in un nuovo episodio di BIMITS! Questo è il terzo episodio, se non avete visto i precedenti, mi raccomando, andate assolutamente a vederli! In questo episodio speciale abbiamo per voi un ospite speciale, che è il primo ospite, quindi il rullo di tamburi, o... Virginia! Prego! Ciao a tutti ragazzi, ok, accomodiamoci sulle nostre postazioni e vediamo un po' di discutere e parlare riguardo questa campagna bellissima che è... Che è qualcosa nel telefono? Batteria scarica? No ragazzi, abbiamo il telefono scarico! Vabbè, mettiamo il risparmio energetico. Continuiamo? Ok, perfetto, allora, perché oggi Virginia è qui? Allora, Virginia, come anche Margherita, ha partecipato alla registrazione di uno shooting per una campagna, quindi oggi ci racconterai un po' com'è partecipare e essere sotto i riflettori per un pomeriggio e le emozioni... Sensazioni, tutto quello che voglio! Allora, è stata un'esperienza fantastica, ma soprattutto molto figa, che auguro a tutti di fare una volta nella vita. E all'inizio ti trovi un pochino in difficoltà, perché comunque devi prenderci, entrare proprio nel mood di questo shooting, poi però con il tempo capisci che è una cosa molto semplice da fare, non è chissà cosa. Ok, e lo rifaresti chiaramente? Naturalmente, sì! E un po', cioè, descrivici un po' l'abito, come ti sei sentita? Allora, onestamente ti senti un po' una principessa con quell'abito che è veramente imponente. E' un abito veramente bello, che secondo me a molti starebbe veramente bene addosso. E niente, adesso abbiamo un avvenimento... Aspetta, dai! Un avvenimento, direi comico, della situazione. Perché cosa è successo, prego? A metà shooting ha iniziato a piovere, quindi ho fatto praticamente quasi tutte le foto bagnate a Fradisha. Bello della diretta! Ok, quindi che ne dici di farci vedere quest'abito? Ok, andiamo ad approvarlo! Prego! Nel frattempo, io e Margherita vi parleremo della campagna, proprio in sé per sé, perché non abbiamo letto neanche il titolo in realtà. Esatto! E' Fire Girl! Ok, infatti riprende il mood del fuoco. Esatto, questo è perché l'abito che adesso Virginia ci farà vedere indossato è proprio rosso. E' proprio rosso come il fuoco, è proprio bellissimo, ha un impatto visivo comunque che riesce proprio a colpire l'occhio delle persone. Quindi il gioco tra colori, infatti, tra il fuoco e il vestito è proprio fantastico. Virgi, come va lì dentro? Se qualcuno può venire ad aiutarmi... Prego! Allora, io intanto mostro alcuni accessori che abbiamo aggiunto all'abito, che sono questo bracciale in oro e in più questi orecchini a bottone con l'AB e smalto rosso. Che riprende il vestito, chiaramente. Ovviamente! Adesso aspettiamo perché ci siamo quasi... Che mi dite in regia? Siete? Ci siamo quasi? Perfetto! Più o meno aspettiamo un altro po'. E niente, per mettere questi vestiti... Siamo pronti, siamo pronti. Siamo pronti, mi dite, spostiamo la scena un secondo, scusate. Uno, due e tre! Prego! Ecco a voi! Fire Girl! Adesso applichiamo gli accessori. Esatto. Il braccialetto e gli orecchini. Allora, la caratteristica del braccialetto... Ora la spiego mentre tu lo indossi. Questi orecchini sono un po'... Insomma, non siamo abituati... Sono fighe perché sono flip, però non siamo abituati a mettere... A indossare. Allora, intanto mostra tutto quello che devi far vedere, anche gli orecchini se riesci, ok? La particolarità del braccialetto è che appunto deve mantenere questa forma con il pendente. Ok, allora il vestito, come vedete, è un vestito molto imponente, però anche molto elegante e di classe, perché è molto fine comunque nei particolari. Questa è la versione in rosso, però... Avete visto anche una versione in nero. Io sono nell'armadio, guardate l'intervista doppia. Quindi, cioè, come vedete, è tutto realizzato in tulle, 8 metri di tulle. E la particolarità è che può essere indossato con delle scarpe basse, infatti lei ha uno stivale, perché non è adatto ai tacchi. No, in effetti no. E nulla. Quindi questo è l'abito. E io direi, appunto, di... Cioè, ammirate, ammirate la meraviglia. Quindi, non lo so, cioè... Devi dire qualcosa al tuo pubblico? No? Perfetto. Allora, concludiamo qui. Vi salutiamo. Grazie a tutti. Continuate a seguirci. Soprattutto guardate le foto dello shooting, sia del mio che del suo. E nulla. Sono molto particolari e molto belle, volevo aggiungere. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!